A Stoccolma i più celebrati Purosangue e Canini si accingono ad affrontarsi nella più importante gara riservata in Isvezia ai lebrieri. Per la verità del ricco premio posto in palio a loro non importa nulla. Si scapicolano lungo i 385 metri del circuito soltanto nella tenace e sempre delusa speranza di azzannare quella maledettissima lepre. Una speranza che è ormai diventata un'idea fissa e che rende agitati i loro nervosi sonni di animali nati per correre. La media complessiva sarà di 48 chilometri orari ma vi sono tratti in cui la famelica muta supera largamente i 60. Per la cronaca finirà col prevalere il bamboccione che brucerà sul traguardo campioni dal nome ben più impegnativo come il pirata e apocalisse. Per la cronaca finirà.